Buongiorno a tutti, eccoci qui, sono tornata a parlarvi di Made in Italy e grazie a Tieschia di Nusa raccontarvi la storia di persone che realizzano questo grandissimo miracolo italiano. Oggi siamo a Cagliari in Sardegna e vi racconto la storia di una giovane donna, una giovane donna che si chiama Caterina Quartana che realizza meravigliosi tessuti d'arrenamento. Caterina interpreta la tradizione tessile sarda e con studio, con ricerca e con innovazione e la fa dialogare con la materia e con la sperimentazione. Credetemi, i tessuti di Caterina sono meravigliosi e poi non fa solo tessuti d'arrenamento. Andatela a trovare e guardate quello che fa.